Prepariamo i finocchi al forno con curcuma e limone, un contorno leggero, facile da fare e che fa bene alla salute. Iniziamo. Ripulisci i finocchi, tagliali a fettine sottili, sciacquali per bene e occupati del condimento. Un pizzico di sale, pepe nero, il succo di mezzo limone, la curcuma e un bel giro d'olio. Adesso metti i finocchi in teglia distribuendoli su tutta la superficie e via in forno. Cuoci per circa 25 minuti dando una girata ai finocchi a metà cottura. Sono ottimi sia caldi che a temperatura ambiente. Buonissimi!